Oggi siamo nel quartiere Rancitelli di Pescara. Consigliere Pettinari, lei lancia l'ennesimo allarme sullo stato di alcune abitazioni, non solo di questo quartiere di Pescara, ma anche di altre zone della città. Certo, sono rimasti fuori da ogni tipo di intervento, distanziamento di risorse i quartieri Rancitelli, Sandonato, Zanni, Borgo Marino e tutta la provincia di Pescara e tante zone periferiche della regione Abruzzo. Sono case popolari fatiscendi che possono crollare, qui siamo sotto un palazzo che potrebbe crollare da un momento all'altro, l'hanno certificato, anche tecnici autorevolissimi, è collegato ad altre case, ad un treno di case, potrebbe portarsi dietro tutto, mettendo a serio rischio l'incolumità dei cittadini e dei residenti. Ebbene, io vedo che il Presidente D'Alfonso va a fare passerelle elettorali questa mattina a Fontanelle, solo perché siamo vicini alle elezioni, evidentemente, ma non si accorge che i problemi sono dappertutto in ogni luogo. Qui non è venuto mai, deve venire qui, deve andare in altri posti, soprattutto deve stanziare risorse, invece mi si bocciano costantemente i miei emendamenti al bilancio che chiedono più risorse. Ecco, qui non ci sono cittadini di serie B. Di Pillo oggi avete mostrato delle foto, delle immagini eloquenti sullo stato di alcune abitazioni e di edilizia popolare del quartiere Rancitelli, ma anche di altri quartieri sensibili della città. Sì, soprattutto Sandonato, via Basento, via Panela, via Riosparto, via Lago di Capestrano, insomma ce ne sono parecchie. Addirittura in alcuni sottotetti c'è presenza di Ethernet, quindi di Amianto. Io mi auguro che l'Ater agisca quanto prima per l'incolumità dei cittadini. I residenti sono preoccupati? Sono molto preoccupati anche perché, ripeto, è una situazione che purtroppo un po' in tutte le abitazioni, le palazzine Ater si ripetono ciclicamente. Quindi io penso, spero, mi auguro che almeno in questo periodo di campagna elettorale, visto che D'Alfonso fa le conferenze stampa in questi periodi, che agiscano a favore dei cittadini.